Incidente nella strada di giovedì 22 dicembre intorno alle 19 sulla strada provinciale 13 a Valperga. A scontrarsi una Hyundai condotta da un uomo di 64 anni e una Dacia Sandero con alla guida una donna di 66 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Bianca del Canavese e i carabinieri di Cornier. Ferita in modo serio la donna che era a bordo della Dacia che è stata estratta dall'abitacolo della vettura dove era rimasta incastrata, in modo più lieve l'uomo. Entrambi i conducenti sono state trasportate all'ospedale di Ivrea, il sinistro è il vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.